leader del socialismo italiano pietro nenni ha attraversato con la sua intensa attività politica diverse stagioni della storia italiana la prima guerra mondiale l'opposizione al fascismo la costruzione della democrazia e gli anni della modernizzazione economica e delle riforme nato a faenza il 9 febbraio 1891 orfano di padre in tenera età entra giovanissimo nel partito repubblicano italiano animando numerose manifestazioni sindacali segretario della camera del lavoro di forlì nel 1911 è condannato a un anno di carcere per aver organizzato lo sciopero contro la guerra di libia nel 1914 è tra i promotori delle manifestazioni a carattere insurrezionale note come settimana rossa interventista e combattente nella prima guerra mondiale è poi direttore del giornale del mattino di bologna tra il 1920 e il 1921 matura la sua adesione al partito socialista e diviene redattore capo e poi direttore dell'avanti il quotidiano ufficiale del partito socialista aperto al dialogo con il movimento comunista difende però l'autonomia dei socialisti e soprattutto si oppone con forza al fascismo animando insieme a carlo rosselli la rivista il quarto stato più volte arrestato nel 1926 espatria in francia dove diviene segretario generale del psi e promuove la creazione della concentrazione di azione antifascista e la riunificazione dei diversi rami del socialismo italiano allo stesso tempo prosegue un'intensa attività giornalistica e propagandistica tra il 1936 il 1939 partecipa poi alla guerra di spagna come commissario delle brigati internazionali antifranchiste con lo scoppio della seconda guerra mondiale e l'occupazione tedesca della francia lascia parigi ma nel febbraio 1943 è arrestato e consegnato alla polizia fascista liberato alla caduta del fascismo nell'agosto 1943 è eletto segretario generale del psi in via di ricostruzione con la liberazione e vicepresidente del consiglio e ministro per la costituente tra il 1945 e del 1946 alto commissario per le sanzioni contro il fascismo e ministro degli esteri dal 1946 al 1947 deputato alla costituente e poi eletto alla camera sin dalla prima legislatura repubblicana nell'ambito del partito socialista nenni è una delle personalità di maggiore spicco favorevole ad una unità d'azione con il partito comunista ma deciso a promuovere l'autonomia socialista mantiene il partito all'opposizione dei governi centristi dopo che le elezioni del 1948 hanno segnato la vittoria della democrazia cristiana e la sconfitta del fronte popolare che unisce socialisti e comunisti allo stesso tempo assume posizioni critiche dello stalinismo e matura progressivamente una svolta in senso riformista che riavvicina i socialisti all'area di governo all'inizio degli anni 60 nenni sostiene il passaggio ad una formula di governo di centro-sinistra allo scopo di promuovere una politica di riforme economiche e sociali e vicepresidente del consiglio nel primo secondo e terzo gabinetto moro 1963 68 e ministro degli esteri nel primo e secondo rumor 1968 69 nel 1966 promuove inoltre la breve unificazione dei due partiti socialisti il partito socialista italiano e il partito socialista democratico italiano nel 1970 è nominato senatore a vita divenuto oramai simbolo vivente del socialismo italiano rimane presidente del psi e continua a svolgere un'intensa attività politica sino alla morte che avviene il primo gennaio 1980 noi aspiriamo a fare del giorno in cui la nuova costituzione sarà promulgata uno dei più bei giorni della storia d'italia il giorno in cui le classi lavoratrici prendano definitivamente nelle loro mani la fiaccola della libertà abbandonata dalla borghesia assorgendo ad anti segnane ed artefici di una nuova civiltà discorso all'assemblea costituente 10 marzo 1947 grazie a tutti! ciao! Grazie a tutti